Buongiorno a tutti, allora, 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 mi sa che ho fatto dei video senza audio e quindi chiedo venia e ormai li ho fatti e purtroppo non sto a rifarli. Il danno è fatto, amen. Chiedo venia e comunque niente, partiamo subito con la schedina del weekend per il campionato francese, sperando che mi sentiate, adesso controllerò prima di guardarli online. Mi spiace ragazzi, chiedo veramente venia, infatti c'è un ragazzo che continua a scrivermi eccetera, ti seguo qua là su giù, vieni in db, ma non mi interessa il db, cioè non so perché continuate a chiedermi giochini, non giochini, non sono interessato a queste cose qua. Io faccio video su YouTube per piacere e per divertimento, se vi piacciono mi seguite, se non vi piacciono non mi seguite, non chiedetemi di venire su varie piattaforme di gioco eccetera perché non ho tempo e non mi interessano. Detto questo andiamo a fare la schedina del campionato francese. Partiamo subito con Lance Clermont 1, Rennes-Tolosa 1, Paris Saint-Germain-Auxerre 1, Nantagliaccio 1x, Brest 3 1x, Montpellier-Rennes partita da aiuto aiuto arriva al lupo 1-2, Lill-Hangers 1, Strasburgo-Lorient 1x, Monaco-Barsiglia 1x. Andiamo alla schedina alternativa. Lance Clermont gol piover dato a 2,20 che già mi fa libidide. Rennes-Tolosa gol piover dato a 1,88, non male. Poi il Gigione va giù di Mannaia, esagera. Paris Saint-Germain-Auxerre gol piover 3,5 dato a 2,70 che se lo prendiamo è da doppia libidide quei fiocchi. Nantagliaccio over 2,5 dato a 2,15. Brest 3 over 2,5 dato a 1,72, una quota abbastanza normale. Montpellier-Rennes gol piover dato a 1,95. Gli over, se non vi dico nulla, sono tutti over 2,5. Se no, se è di più, ve lo dico. Lill-Hangers over 3,5, anche questo bello arrischiato, come si suol dire, dato a 2,40. Strasburgo-Lorient gol piover dato a 1,91. E infine Monaco-Marsiglia gol piover dato a 1,84. Bene ragazzoli, in attesa che l'omino della succursale, che mi deve dire se c'è la macchinina che ho scelto o meno, se è disponibile, se è a posto, se è se è se è se. Anche perché sono ormai tre settimane che sono senza senza macchina. La mia ormai è andata, la mia Renault Clio del 2001, ormai ha dato gli ultimi respiri e è saltata la centralina completamente. Quindi per cui ho scelto una Suzuki Ego, non so di che anno eccetera, ma detto ho disponibile una Suzuki Ego, ti può andar bene, gli ho detto sì tanto a me, la macchina basta che funzioni, mi porti in giro eccetera, non è che devo andare chissà dove, devo stare qua in zona e per di più sta fuori. Quindi è inutile che prenda una macchina bella eccetera, che resta fuori all'aperto a 200 metri da casa ad andar bene, che non si sa mai, poi mi stava offrendo un Audi A4, un transatlantico a un prezzo probabilmente di favore, ma francamente io l'Audi no, non vado certo a prendere una macchina del genere che resta fuori eccetera, che mi costa anche un botto di assicurazione. Piccolina, tranquilla, adesso dovrò sentire anche l'assicuratore per fare la voltura, anche perché tanto ce l'avevo in scadenza ai primi di dicembre, quindi cambia poco. Boh, staremo a vedere ragasoli, vi ragguaglierò anche su questo e ci vediamo alla prossima, che adesso vada a proprarvi il campionato tedesco. Chiedo Venia per i video dell'altro giorno, vedrò di farli nella notte, li rifaccio nella notte tutti e due, non ho capito come mai non si sente più, è saltato l'audio, adesso controllerò questo. Niente, io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao! Ciao!